e allora ragazzi bentornati un nuovo video di stone fighters tv quest'oggi mi trovo nella mia casa in campagna in compagnia di parenti e questo sarà un video diciamo noi altri polemico citando il titolo ovvero michael venom page è un fenomeno o un bluff chiaramente andiamo a parlare di michael page michael page è un personaggio odiato e amato a seconda da da chi lo vede che come sappiamo o se non lo sapete ve lo dico adesso proviene da venerdì scorso ha ottenuto la sua ennesima vittoria per t che io in questo caso al direttamente al primo round contro derek anderson grazie ad un haike un circolare al viso di dato ai danni di derek che gli ha letteralmente spappolato il naso quindi rotto il naso e poi derek praticamente non ha potuto continuare il suo suo match perché dopo la fine del primo round il medico ha dovuto dare lo stop medico e quindi assegnare la vittoria a michael page ora fino al discorso della della vittoria nulla da dire perché ha ottenuto il k o e quindi in automatico ha vinto però ahimè quando si parla di michael page ci sono delle vere vere e proprie divisioni tra puristi dell'mma e tra chi invece come me in questo caso ritiene michael page un atleta di altissimo livello allora quindi partiamo proprio da questo presupposto nel web va per lo più il discorso che intanto michael page si vince ma ora ci vuole non convince perché a dire di molti ha combattuto contro atleti di basso livello ed non appena ha trovato degli avversari di un livello più alto è andato a perdere vedi contro dagas lima e in più che gli atleti di bellator in realtà sono atleti di basso livello e che se poi portati gli ufc non farebbero altro che essere presi a calci dal primo che capi allora partiamo da quest'ultima parte ovvero sul discorso che gli atleti di bellator se passano agli ufc verrebbero presi al calci dal qualsiasi fighter di ufc e per portare questo esempio mi viene da dire chiaramente michael chandler michael chandler campione bellator passato recentemente agli ufc dove come primo incontro ha affrontato dan hooker e si diceva ecco adesso michael chandler non appena affronterà hooker verrà e sicuramente sdraiato e invece come sappiamo in realtà michael chandler ha impiegato meno di un round ha impiegato pochi minuti per stendere letteralmente dan hooker con un diretto destro sinistro non ricordo non ricordo che ha spendo letteralmente le candeline a hooker e adesso michael chandler è prossimo contendente per il titolo vacante light heavyweight quindi già lo stesso michael chandler ha dimostrato con i fatti che gli atleti di bellator se passano gli ufc così scarsi non sono poi parliamo in questo caso specifico di michael page allora ragazzi intanto parliamo dei numeri di michael page michael page ha ben 20 incontri nel mma di cui 19 vittorie ed una sola sconfitta come abbiamo detto poc'anzi contro dagas lima di queste 19 vittorie ben 12 sono avvenute per ko e di queste 12 tutte 12 anzi sono avvenute entro il primo quindi già se voi dovesse sentire senza sapere il nome uno scorre del genere di un fighter di mma sicuramente la prima cosa che vi verrebbe da dire wow ma chi è questo fighter che viene via fa il suo esordio in ufc in questo caso stiamo parlando di michael page che ripeto sono su 20 incontri avere 19 vittorie e una sola sconfitta già si presenta con un curriculum di tutto il rispetto mettiamo pure che gli avversari non siano di altissimo livello cosa che non è così ma per esempio prendiamo l'unica sconfitta avuto contro douglas lima fighter di altissimo livello ma se è andata ad analizzare bene l'incontro in realtà douglas lima ha avuto un po il colpo della domenica in quel caso specifico ovvero se vi ricordate lima ha è riuscito è stato molto bravo a prendere il tempo a me col page cosa estremamente difficile ora ci arriviamo sulla tecnica di me col page ma è riuscito comunque a a dare un low kick nel momento in cui me col page stava per fare portare il suo attacco che lo ha fatto sbilanciare quindi cadere giù e poi cercare di anzi in questo caso lo faccio col test di portare un montante che è riuscito a beccarlo in pieno mento e chiaramente i pugni di douglas lima non sono caramelle ha steso letteralmente michael page ma ragazzi stiamo parlando di una sola sconfitta contro un douglas lima che è stato bravo ma ha anche trovato il colpo del capo cioè il colpo della domenica però l'attenzione fa parte dello sport fa parte delle ma il colpo della domenica ci può anche stare detto questo però ragazzi analizziamo adesso parliamo un attimino di me col page allora per chi non lo sapesse mai col page proviene dal semi contato ovvero dal fight point il fight point e per chi non lo sapesse è una disciplina simile è un mix fra il karate contact è la scherma se così vogliamo dire ovvero dove si combatte su dei quadrati da 6 o da 6 per 6 ad 8 per 8 dove l'obiettivo è quello di portare a assegno i punti sia con con i calci che con le braccia esattamente come la scherma chi entra per primo porta il suo punteggio e chi ha il massimo punteggio alla fine del minuto regolare del tempo regolamentare vince ora questo già vi fa comprendere che tipo di background ha alle spalle ma colpeggio ma colpeggio come tutti i semi contattisti la loro preparazione è incentrata principalmente su velocità distanza e precisione infatti un semi contattista fa si concentra molto sul tenere una lunga distanza che devono accorciare nel minor tempo possibile quindi una frazione di secondo prendendo il tempo al proprio avversario quindi in questo caso distanza puoi prendere il tempo del proprio avversario ed infine precisione cioè i colpi devono entrare in maniera precisa altrimenti gli arbitri non assegnano il punto quindi da questo si fa capire che sono specializzati in questo che è un po come quando si parla di fighter di mma che combatte nel pugilato vedi tanto per citarne uno con mcgregor contro maiweather si è in grado di poter un fighter di mma in grado di poter combattere contro un pugile contro un fighter di pugilato ma è chiaro che un pugile ha molta più preparazione in quel singolo contesto cioè a utilizzare solo ed esclusivamente le braccia mentre un fighter di mma è in grado di poter competere ma chiaramente non è allo stesso livello la stessa cosa succede nel semi contact se un fighter di mma dovesse andare a fare una gara di semi contact perderebbe dopo 30 secondi perché per cappotto si dice del termine ovvero per una maggioranza di oltre 10 punti ora ritornando a michael page quindi partendo dalla base che lui il suo background è proprio questa quindi distanza velocità e precisione lui ha aggiunto una cosa in più fondamentale nell' mma ovvero quella che è il quello che è il colpo del ko infatti vedi quello che è successo a derek anderson michael page è in grado di dare colpi sia di braccia che di gamba che siano dei colpi da cappotto cioè che fanno veramente ma come sappiamo ragazzi e come possiamo prendere 200 milioni di esempi nelle mma ragazzi basta un singolo colpo è entrata in piena potenza preciso che mette giù l'avversario non è che ci vuole non è che necessariamente deve durare tutte e tre round si devono massacrare alla just engage piuttosto che alla dustin porrier basta un colpo dato per come si deve e vedete camaro husman contro masvidal nelle ufc 261 ok quindi detto questo michael page la cosa che voglio dire che voglio trasmettere è che michael page mi spiace dirvelo ragazzi ma è un fighter di altissimo livello perché perché come appena detto è un fighter di caratura mondiale nel fight point che è riuscito a portare nelle mma questa sua esperienza quindi basando tutto sullo sullo striking e gestendo quelli che sono appunto la difesa del takedown ed eventualmente quando va a terra cercare di tamponare vedi l'incontro fatto a parigi contro houston incontro indubbia indubbiamente poco brillante perché se andata per decisione ma non si è visto granché e lì c'è una spiegazione molto specifica la dico brevemente e se andata a rivedere il match io durante il match lo dissi in una chat con altri colleghi e ovvero il terreno in cui combattevano erano era particolarmente scivoloso per chi fa semi contact non appena c'è un terreno particolarmente scivoloso praticamente si annulla perché i blitz che vengono portati di braccio gli sbilanciamenti e quant'altro vengono automaticamente annullati perché non avendo grippe sul piede ecco che non si riescono a portare e quindi lui ha cambiato la strategia e diciamo che si è adattata alla situazione riuscendo comunque a portare la vittoria dalla sua parte detto questo cosa succederebbe se michael page ok come molti dicono andasse in ufc verrebbe annientato dal primo che capita ragazzi secondo me assolutamente no anzi secondo me ragazzi michael page potrebbe tranquillamente andare a competere con uno qualsiasi della top ten ora se andiamo ad analizzare i top ten dalle ufc nella categoria in questo caso welterweight perché sarebbe appunto nella 170 libere quindi 77 chilogrammi allora noi andiamo andiamo a fare una carrellata veloce partevola top ten quindi abbiamo al decimo nil magni maia luque chiesa masvidal fino alla quinta posizione e ci aggiungerei poi steven thompson nella quarta nel numero 4 del re king welterweight ragazzi dal mio punto di vista michael page è in grado di potersi misurare con qualsiasi di questi avversari con questo non voglio dire che michael page arriva lì e fa man basta di tutti quanti assolutamente no ma dico anche che michael page con uno qualsiasi di questi avversari ma anche ragazzi in tutta sincerità anche contro edwards burns o convington sarebbe in grado di poter affrontare questi avversari affrontare ripeto non intendo dire che si farebbe una passeggiata e vincerebbe senza ombra di dubbio ma potrebbe competere e anche avere una possibilità di portare la vittoria a casa non nomino chiaramente camaro husman perché attualmente dal mio punto di vista in quella categoria è il più forte che ci sia in questo periodo ed è diventerà a breve un hall of fame senza ombra di dubbio l'ho detto in passato e lo sostengo tuttora però detto questo nella top ten tutti questi fighter sono assolutissimamente alla portata di michael page a una cosa però dimenticato di dire a proposito dei numeri non ci scordiamo anche le caratteristiche fisiche di michael page ovvero non ci scordiamo che lui combattendo nella 77 chilogrammi lui si presenta come come un fighter particolarmente alto ovvero un metro e 91 di altezza per 201 centimetri di rich ragazzi ricordatevi sempre che la rich è particolarmente importante per non parlare poi di un fighter come lui che proviene dal semi contact e quindi che riesce a combattere a distanze maggiori rispetto a qualsiasi altro fighter di mma che ci sia un classico che proviene dalla muetà e che proviene dalla lotta perché perché loro non hanno mai avuto bisogno di stare a una distanza così lunga come un semicontattista è abituato a fare ecco perché vi dico che michael page può essere in grado di competere con uno qualsiasi di questi top ten della ufc ripeto competere non vuol dire automaticamente vincere ma vuol dire comunque mettere sotto pressione il proprio avversario con anche la possibilità di riuscire a portare a portarsi a casa la vittoria poi perché lui adesso non sia non passa alla ufc perché rimanga all'interno del contesto bellator non è come molti di voi dicono a perché ha paura ragazzi ricordatevi che i fighter questi sono fighter professionisti fanno del combattimento il loro vestiere quindi non hanno paura di combattere i propri avversari perché comunque se li studiano fanno una strategia insomma si mettono lì a studiare il proprio avversario perché loro campano di questo semmai da dire proprio perché campano di questo che le condizioni economiche che ha attualmente in bellator molto probabilmente sono superiori a quelle che gli verrebbero proposte in ufc tanto per dirne una parliamo di core anderson che recentemente passato circa sei mesi fa da ufc a bellator e ha dichiarato di aver guadagnato più in sei mesi di bellator che non negli anni passati gli ufc con ben 15 incontri disputati gli ufc e su questo discorso ragazzi fatevi fatemi una ragione dana white non è propenso a uscire tanti soldini e poi su questo magari ne faremo una puntata a parte detto questo ragazzi questa è la mia opinione sul discorso di michael page so già che riceverò una miriade parolacce e di opinioni contrastanti ma ci sta ragazzi mi sta benissimo e onestamente in tutta sincerità mi augurerei che un domani a breve visto che ancora 34 anni michael page possa trovare una chiave con dana white economica interessante e andare in ufc per dar voce a quello che è la mia opinione detto questo da parte di francesco la fauce tutto io vi saluto e ci vediamo al prossimo video VAMOS! STONE FIGHTER TV 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 Prendi un destro e un sinistro e forse un low kick Sei sul magico schermo di STONE FIGHTER TV C'è la Fauci Francesco e non ti perdere il film Se non ti piace la lotta non passarci da qui STONE FIGHTER TV Testone FIGHTER TV STONE FIGHTER TV ilk